andare a ottimizzare i vostri ingressi e le uscite dal mercato. Andiamo a vedere che cos'è un ordine. Un ordine è quello strumento che ci permette di comprare o vendere degli strumenti sia come entrata in posizione a mercato oppure come chiusura di un'operazione già in essere. A seconda delle condizioni che assegniamo a quest'ordine, il mercato può accettarlo o istantaneamente oppure in un arco di tempo a mia scelta. E nei prossimi 5 minuti andremo a vedere queste due condizioni, quando ci trasmette istantaneamente oppure quando ci trasmette in un arco di tempo a mia scelta. Ovviamente cosa possiamo fare con un ordine? Possiamo comprare oppure possiamo venderlo. Piccola anteprima fondamentale per ognuno, mi raccomando è l'ABC proprio, compro con la speranza che il prezzo salga, vendo con la speranza che il prezzo scenda. In sintesi c'è questo piccolo schemino che penso sia abbastanza utile per tutti quanti, buy to open, sell to close, sell to open, buy to close. Molto molto semplice, lo ripeto sarò veloce ma voglio che siano fondamentali queste cose. Andiamo a vedere velocissimamente l'acquisto e la vendita, per poi concentrarsi sulle varie tipologie di ordini. Partiamo con l'acquisto. Come vi dicevo prima, io compro uno strumento finanziario se la mia aspettativa è quella che il suo valore aumenti. Chiaramente per andare a rivenderlo ad un prezzo più alto e ovviamente andare a ottenere dei profitti. Ci sono tre modi per indicare questa azione. Ovviamente comprare, buy, che è la traduzione in inglese e nel linguaggio più moderno l'andare long. Con l'acquisto ci sono tre tipologie, ci sono tre scenari che possiamo avere quando noi compriamo uno strumento. Facciamo un esempio con Apple. Io compro un'azione Apple a 90 dollari. Cosa può succedere? Io la compro a 90 e il prezzo inizia a salire, per esempio, fino a 93 e vado a rivenderla. Questo è il primo scenario. Io compro ad un prezzo e lo rivendo ad un prezzo più alto. Il secondo scenario, compro sempre un'azione Apple a 90 dollari e il prezzo rimane invariato e la rivendo sempre allo stesso prezzo. Quindi, come vedete anche al piccolo schemino che mi sono creato, compro a 90 e rivendo allo stesso prezzo. Terzo e ultimo scenario, compro un'azione sempre a 90 dollari, però il prezzo, come vedete, inizia a scendere e lo rivendo, per esempio, a 87 dollari. Quindi compro ad un prezzo 90 e lo rivendo ad un prezzo inferiore. In sintesi, cosa appare? Questi tre scenari sono riassunti in questa breve tabella, breve ma penso efficace. Nel primo scenario, io ho comprato a 90 e rivenduto ad un prezzo più alto, ho avuto un guadagno, una plusvalenza, chiamatela come volete, un gain, un profit, tutte queste terminologie sono sinonimi di 3 dollari, che è il mio obiettivo per andare long. Nel secondo scenario, ho comprato a 90, ho rivenduto allo stesso prezzo, non ho avuto né un guadagno, né una perdita, quindi una situazione di pareggio. Mentre nel terzo scenario, abbiamo comprato a 90 dollari, l'abbiamo rivenduta ad un prezzo inferiore, quindi a 87 dollari, e ho avuto una perdita, minusvalenza, loss, chiamatela anche qui come volete, di 3 dollari. Andiamo velocemente sulla vendita, la vendita funziona chiaramente in modo opposto, io vendo uno strumento finanziario se la mia aspettativa è quella che il suo valore o il prezzo diminuisca, per poi andare a ricomprarlo chiaramente ad un prezzo inferiore. Vendere, vendere, sale, andare short, sono tutti e tre sinonimi. Anche qui ovviamente ci sono tre scenari, stavolta io vendo un'azione Apple a 90 dollari, il prezzo scende e la ricompro a un prezzo inferiore, quindi a 87 dollari. Secondo scenario, vendo sempre un'azione Apple a 90 dollari, il prezzo rimane invariato e la ricompro quindi al mio prezzo di entrata che è appunto questi 90 dollari. Terzo ed ultimo scenario, vendo un'azione Apple a 90, quindi devo sperare che il prezzo scenda, cosa succede? Il prezzo inizia a salire e devo ricomprarla ad un prezzo più alto, quindi a 93 dollari. Anche qui in sintesi, tengo come stesso formato la stessa tabella, ci sono tre scenari per la vendita di uno strumento, se io vendo a 90 dollari Apple e la ricompro ad un prezzo inferiore, quindi a 87 dollari, in questo caso avrò un guadagno, una plusvalenza, un gain, un profit, stesse identiche parole, se la vendo a 90 dollari e la ricompro allo stesso prezzo avrò una situazione di pareggio, quindi né guadagno né perdita, invece se io vendo questo strumento a 90 dollari e lo ricompro ad un prezzo maggiore, accuserò una perdita, una minusvalenza, una loss, sono tutti sinonimi. In questo caso abbiamo venduto a 90, l'abbiamo ricomprato ad un prezzo più alto, quindi a 93 e ho accusato questa perdita di 3 dollari. Ok, vi attiviamo un po', cosa fa un trader quando acquista uno strumento finanziario? Domanda semplice ma indispensabile per andare avanti e capire le tipologie di ordini. Io compro con la speranza di? Esatto, esattamente, ci aspetta che il suo prezzo aumenti, perfetto. Adesso che vi ho attivato un po', facciamo la stessa cosa con la vendita, cosa succede se io vendo uno strumento finanziario? Ecco, io devo aspettarmi che il prezzo diminuisca, in modo tale che vado a ricomprarlo ad un prezzo inferiore. Perfetto, adesso possiamo ingranare un po', abbiamo finito con l'anteprima, spero di non aver annoiato nessuno, possiamo andare al sodo e affrontare tutte le varie tipologie di ordini. Una cosa importantissima per quanto riguarda l'inserimento e capire le varie tipologie degli ordini riguarda il periodo di validità. Che cos'è il periodo di validità? La validità è la condizione temporale che noi attribuiamo ai nostri ordini, sia di acquisto che di vendita. Per giunta ci sono due tipologie più utilizzate di questi periodi di validità, che sono DEI e il GTC. Queste sono le due tipologie più utilizzate. In particolare, un periodo di validità DEI è appunto una condizione che mi permette di attribuire una validità dell'ordine fino alla giornata odierna di trading. Mi raccomando, non fino alle 23.59 e 59 secondi, fino a quando il mercato è aperto in giornata. Quindi bisogna andare a controllare a che ora chiude il mercato del sottostante che vogliamo tradare. Infatti, se l'ordine non entra a mercato entro questo arco di tempo, esso verrà automaticamente cancellato dal sistema. In particolare, è consigliato perché è un'operatività intra-day, come il nostro buon Stefano con i volumi nel Trading Club, oppure se si vuole mantenere l'ordine solamente valido nella giornata odierna. Al contrario, un periodo di validità GTC, che GTC per definizione significa Good Till Cancelled, buono fino a cancellazione, è una condizione temporale valida fino a scadenza del contratto, dove ovviamente è prevista. Quindi, come potete ben capire, è ideale sia per entrare a soglie di prezzo lontane dal prezzo attuale, per esempio io voglio, ho un titolo che in questo momento sta battendo 100 dollari, voglio entrare a 175, è difficile che in una giornata vada a prenderlo, quindi gli vado a inserire un periodo di validità GTC, magari in 3, 4, 5, 1 mese, 2 mesi, il tempo necessario, posso mantenere l'ordine attivo e entrare in quella posizione. Chiaramente, per questo motivo, è ideale per un'operatività multi-day. Ok, chiudiamo un attimo l'argomento del periodo di validità, dato che anche per esperienza personale, molti trader ci chiamano e cosa ci dicono? Io ho inserito delle protezioni, sia in profitto che per limitare le nostre perdite, e il giorno dopo sono andate a farsi benedire. Per quale motivo? Per il semplice fatto che hanno inserito un periodo di validità day, quindi valido solo per la giornata odierna, e purtroppo non hanno inserito un GTC. Quindi, ogni volta che mettete a mercato una posizione sul lungo termine, assicuratevi sempre di avere impostato GTC come periodo di validità. Ok? Molto importante questo. Ok. Ok. Ok, intanto che mi rispondete, rispondo un attimo a una domanda di Elio. Elio ci chiede se si può inserire l'ora esatta per la chiusura di una posizione. Assolutamente sì, andiamo a vederla più avanti, e tra l'altro è anche nella scaletta di oggi, si chiamano ordini condizionali, dove noi andremo ad inserire una condizione, non su un prezzo, ma appunto su una data da noi prefissata. Ok, perfetto. Partiamo con le tipologie di ordini che andremo a vedere oggi, e chiaramente sono le più utilizzate. Di conseguenza verranno anche tutte le loro sfaccettature, le loro limature, quali per esempio ordini più avanzati, che andremo a vedere sempre più avanti. L'importante è capire bene le differenze tra questi quattro. Partiamo col primo ordine, che è l'ordine a mercato, penso anche sia il più semplice da apprendere. L'ordine a mercato che cos'è? È un ordine di acquisto o di vendita al prezzo attuale di mercato. Facendo anche un esempio nell'immagine che vi ho inserito, io voglio acquistare l'euro-dollaro, vuol dire che comprerò a mercato, vedete che non ha un prezzo specifico, ma fa riferimento al prezzo attuale di mercato, quindi appena ci sarà una controparte disposta all'accettare il mio ordine, io entrerò long, comprerò questo euro-dollaro. Detto anche in altri termini, se io inserisco un acquisto a mercato, significa che vado a colpire l'ask, quindi farò riferimento a quanto il mercato mi sta offrendo per comprare questo strumento. Di conseguenza, se io dovesse inserire un ordine di vendita a mercato, andrò a colpire il bid, quindi questo è short, scusate che, mannaggia, con l'evidenziatore scrivo veramente da cani, scusate, questo riguarda lo short, il bid, mentre l'ask riguarda l'acquisto. Un attimo un po' di ordine, ok, quindi questo è per lo short, questo è per il long. Chiaramente a mercato va direttamente sulla controparte in bid se voglio vendere, in ask se voglio acquistare. Per questo motivo, dato che noi non abbiamo un prezzo impostato su questa tipologia di ordine, non si hanno garanzie che l'ordine sarà eseguito a nessuno specifico prezzo. Facciamo un piccolo esempio, se ci sono delle condizioni e situazioni dove la volatilità, quindi ci sono moltissimi scambi su quello strumento, potete benissimo notare che il bid e l'ask si muoveranno in maniera molto repentina. Per di più non si hanno queste garanzie che se noi vediamo 1,24,16 e siamo in prossimità di una news macroeconomica sull'euro, per esempio c'è un discorso di Mario Draghi, vedrete che l'ask non sarà fermo per molto tempo, anzi cambierà in frazioni di secondo. Piccola parentesi, non tradatemi sulle news macroeconomiche, perché a lungo andare vi fate veramente male. Per questo motivo, vi dicevo, in situazioni di alta volatilità, il bid e l'ask cambia talmente velocemente che non si hanno appunto queste garanzie di prezzo e chiaramente di entrata a mercato, per il semplice fatto che cambia talmente velocemente che non si ha la possibilità di stabilire quando effettivamente possiamo entrare a mercato. Andiamo a vedere l'ordine limit. L'ordine limit è un ordine importantissimo, si usa in, penso, tutte le operatività, è l'ordine più utilizzato e ci tengo personalmente che ognuno di voi sappia il suo utilizzo. diamogli una piccola definizione teorica, anche se non preferisco andare sul pratico. L'ordine limit, che cos'è? È un ordine di acquisto o di vendita a quel prezzo che noi gli andiamo ad assegnare o migliore. Oltre a essere l'ordine più utilizzato come entrata a mercato, è l'ordine che ci permette di uscire da posizioni già in essere prendendo i profitti, la più comunemente chiamata take profit. Dopo andremo a vedere sulla piattaforma come si inseriscono questi ordini, come si attaccano take profit, stop loss e tutte queste cose. Prima devo fare un minimo di didattica. Facciamo un piccolo esempio con l'ordine limit. Io ho un budget nel mio portafoglio di 200 dollari e voglio acquistare un cellulare che costa 300 dollari. In questo momento potrei farlo. Usciamo un attimo dalle dinamiche finanziarie che uscendo un attimo si riesce a capire l'ordine limit. L'ho imparato anch'io così. Io ho 200 dollari e voglio comprare un telefono che ne costa 300. Posso farlo in questo momento? Esattamente, non posso farlo. Il perché? Il primo motivo del perché non posso farlo perché o aumento il mio portafoglio quindi la mia disponibilità per raggiungere il prezzo di questo oggetto oppure, qua rientriamo in ambito finanziario devo aspettare che il prezzo del telefono scenda fino a che non costa 200 dollari per poi riacquistarlo. Oppure, lo scrivo proprio in anteprima Matteo, chiediamo i soldi a Draghi e prendiamo il telefono. Esatto. Esattamente. Ok. Facendo riferimento all'esempio di prima del telefono rientriamo un attimo nelle dinamiche che si interessano. Attualmente questo titolo che penso sia l'oro sta battendo 1189,70 Attualmente io voglio comprarlo a 1187,32 quindi è di un prezzo più basso rispetto a quanto sta battendo ora. è lo stesso esempio che abbiamo fatto prima col telefono solo in ambiti finanziari. Cosa succede se io lo trasmetto questo ordine? Le risposte sono due chiaramente una è quella corretta o il titolo deve scendere fino a che non mi dà la possibilità di arrivare a 1187,30 per poi iniziare a comprarlo oppure entra subito in acquisto. Aspettiamo un attimo le risposte vediamo a chi devo tirare le orecchie esatto esattamente devo aspettare che il prezzo di questo strumento scenda fino al mio ordine di ingresso successivamente una volta che viene toccato il mio prezzo di entrata in acquisto io finalmente sarò long quindi in sintesi l'ordine rimarrà pendente fino a quando il titolo non scenderà al mio prezzo oppure se ne stavamo dimenticando in base al mio periodo di validità che abbiamo visto prima non si cancellerà automaticamente per questo motivo regola essenziale dell'ordine limit un ordine di acquisto limite si inserisce sempre sotto al prezzo corrente di mercato dato che il nostro obiettivo è questo che vi sto per dire noi vogliamo comprare a un prezzo più basso possibile per quale motivo perché una volta che noi compriamo un prezzo inferiore abbiamo più probabilità di rivenderlo a un prezzo migliore quindi otteniamo più profitti tutto ok? è fondamentale capire queste dinamiche se non è chiara qualcosa la rispiego quindi acquisto limite sempre sotto al prezzo corrente di mercato perché è come se io pensassi ok in questo momento sta è troppo caro questo strumento devo aspettare che scenda e sono disposto a comprarlo a quel prezzo Riccardo l'ordine a mercato non hai capito? vado vado a riprenderlo subito l'ordine a mercato se io voglio comprare inserire un ordine a mercato faccio riferimento all'ASC se io voglio vendere a mercato faccio riferimento al bid esatto se va veloce attenzione a quelle situazioni per esempio come dicevo prima delle news macroeconomiche che cambierà talmente velocemente il bid e ASC quindi non si hanno garanzie che ti entra come in questo caso a 24,16 oppure in alternativa strumenti poco liquidi che nonostante ci sia un prezzo battuto come in questo caso quindi sembrano diciamo appetibili cosa succede? il bid e ASC sono talmente lontani che appena si entra a mercato a prescindere che sia long o short ve lo mettono in quel posto perché hanno una differenza tra domanda offerta talmente ampia che lo si prende lì esattamente in sostanza Riccardo si prende al primo prezzo in ASC si compra al primo prezzo in ASC e si vende al primo prezzo in bid disponibile esattamente mi raccomando attenzione sia alle news che agli strumenti che vi ho appena detto dove hanno comunque una struttura simile allo strumento che vi sto mostrando ma hanno un bid ASC molto molto largo ok perfetto andiamo a vedere invece questa seconda casistica dell'ordine limit io ho un acquisto limit questa volta sopra all'ultimo prezzo battuto vedete attualmente questo titolo sta battendo 1187 punto 10 io voglio comprarlo ad un prezzo più alto che è 1191 cosa succede ora le risposte sono sempre due o aspettiamo che l'ordine rimane pendente finché il titolo non tocca 1191 e poi compro oppure l'ordine entra a mercato istantaneamente esatto 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 Roberto Matteo esatto vengo eseguito subito per quale motivo viene trasmesso istantaneamente perché è come se io avessi un budget di 300 dollari e volessi acquistare un telefono che ne vale 200 dollari ovviamente come ragiona la piattaforma in questo caso lo compra subito dato che è un prezzo migliore quello che il mercato mi sta offrendo in questo momento e quindi tra virgolette prendete la tra virgolette questa parola risparmio la differenza tra le due tra il mio budget l'acquisto di questo strumento per questo motivo attenzione ve l'ho scritto anche in questa immagine non molto simpatica però mi piaceva non inserite un buy limit non inserite un buy limit sopra al prezzo attuale di mercato perché perché la piattaforma qualsiasi piattaforma non in particolare i b ragionerà come se fosse un prezzo più conveniente del nostro vorrei un grandissimo feedback da tutti perché è essenziale capire queste dinamiche ok 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 puoi fare un esempio con i numeri con il buy limit sopra il prezzo eccolo qua col grafico attualmente batte 1187 e 10 se voglio comprare sopra quindi a 1191 come ragioni un ordine limit è un ordine di acquisto o vendita a quel prezzo o migliore migliore non è uguale a maggiore migliore per me quindi il mio obiettivo è quello di comprare con la speranza che il prezzo salga è di vendere con la speranza che il prezzo scenda quindi se si può fare una una piccola parentesi più io compro in basso più avrò profitti perché vado a rivenderlo ad un prezzo maggiore più io vendo in alto più avrò profitti se vado a ricomprarlo ad un prezzo inferiore per questo motivo se noi inseriamo un prezzo più alto rispetto al prezzo battuto l'ordine viene eseguito istantaneamente perché si ragiona come se l'attuale prezzo di mercato è un prezzo migliore del nostro limit che abbiamo inserito entra a mercato proprio l'ordine è come se fosse un ordine a mercato per questo l'abbiamo visto prima quindi fa riferimento all'ASC quindi mi raccomando ordine in acquisto limit sempre sotto all'ultimo prezzo battuto andiamo a vedere la vendita per la vendita il modo corretto è chiaramente l'opposto dell'acquisto quindi io devo vendere al di sopra dell'ultimo prezzo battuto per trarne appunto più profitti acquisto sotto e vendo sopra all'ultimo prezzo battuto per l'ordine limit ecco qui un piccolo schema per il buy limit e per il sell limit per concludere questa tipologia di ordine l'ordine limit si può definire come un ordine di inversione del trend perché se ci fate un attimo caso noi attualmente siamo a 1185 e 60 se noi vogliamo comprare più in basso deve prima scendere entrare eseguire il nostro prezzo e poi salire in alto se invece dobbiamo vendere dobbiamo vendere al di sopra quindi il trend deve arrivare al nostro prezzo eseguirsi e dopo riscendere a differenza con un ordine a mercato che noi gli diamo un prezzo di entrata mentre a mercato il prezzo è appunto il prezzo del mercato tutto ok con l'ordine limit possiamo vedere l'ordine stop ora o mai più con l'ordine limit ok mi ricordo dei vostri feedback che mi avete scritto ok non chiamatemi lunedì che non avete capito l'ordine limit ok perfetto ok ordine stop piccola definizioncina un ordine di tipo stop è un ordine di acquisto di vendita una volta fissato un prezzo che è appunto il prezzo stop o per chi ce l'ha in inglese aux price è molto simile all'ordine limite solo che ha una differenza sostanziale che è appunto l'inserimento come vi dicevo a differenza dell'ordine limit quest'ordine non si inserisce sulle inversioni come abbiamo visto due slide fa ma è un ordine che si inserisce sulla direzionalità del trend andiamo a vedere i due grafici così il tutto è molto più chiaro prendiamo il riferimento prima al buy stop attualmente questo titolo batte 17.636 un acquisto stop in base alla definizione quindi non gioco sulla inversione ma sulla direzionalità dove devo inserirlo? devo inserirlo sopra all'ultimo prezzo battuto e come si comporta? se sale mi esegue quindi io sarò long a questo prezzo in corrispondenza della linea azzurra e continuerà a comprare da questo momento inizierò a comprare mentre una vendita stop la inserisco sotto all'ultimo prezzo battuto vedete adesso batte 17.635 io ho inserito un sell stop a 17.614 cosa succede? se io dovessi trasmetterlo devo aspettare che il trend scenda fino al mio prezzo a quel punto io sono short alla soglia da me indicata cosa importantissima con l'ordine stop una volta che tocca il nostro ordine al prezzo chiaramente che gli abbiamo assegnato l'ordine entra a mercato è come se fosse un ordine a mercato devo ripeterlo quindi dato che si comporta come un ordine a mercato quando ci tocca il nostro prezzo stop ha tutti i pro e contro dell'ordine a mercato quindi in situazioni di alta volatilità attenzione che il prezzo potrebbe scivolare sia in meglio che in peggio questo è il fenomeno che più comunemente si chiama slippage dove ci salta di solito si viene chiamato così ci salta il prezzo colpa del broker non è assolutamente vero è la tipologia di ordine l'ordine stop per definizione dappertutto si comporta in questo modo una volta che si inserisce il prezzo si trasforma in un millesimo di secondo in un ordine a mercato quindi se c'è una controparte disponibile entra subito se cambia talmente velocemente il prezzo potremmo essere eseguiti a un prezzo differente dalla nostra entrata quindi anche qui attenzione in primis alle news e in seconda battuta a titoli dove hanno un prezzo tra bide ask molto largo e vi danneggiano già dall'entrata quindi attenzione a queste due tipologie di 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 mercato è chiara la differenza tra ordine stop e ordine limit esatto esatto riccardo l'ordine stop lo inserisco più in alto se voglio comprare più in basso se voglio vendere il contrario di quello limit perché l'ordine limit è inversione di trend mentre l'ordine stop è direzionalità continui su quella via ok perfetto se è chiaro per tutti andiamo a vedere l'ultima tipologia e poi andiamo sulla piattaforma perfetto ordine trailing stop allora un ordine di tipo trail che è la sinonimo di trailing stop è un ordine di entrata o di uscita dove è fissata una distanza quindi non si parla più di prezzo ma distanza in riferimento al nostro ordine di ingresso cosa succede questa tipologia di ordine si muoverà mantenendo il range che abbiamo prefissato dopo ci saranno penso 4-5 esempi andiamo a vederli anche sulla piattaforma quindi prendetela un po' con le pinze questa definizione che è veramente difficile a dire la parola la trailing stop una piccola precisazione al 99-9% questa tipologia di ordine si utilizza per coprire le nostre posizioni quindi difficilmente ho trovato dei trader che utilizzano la trailing stop come ordine principale ho provato anche io qualche volta non mi piace anche sinceramente è molto più utile e profittevole utilizzarla come copertura delle nostre posizioni vedete in questo caso sull'oro abbiamo inserito un acquisto gtc quindi valido per più giorni limit quindi a quel prezzo o migliore a 1198 e 50 ah qua non ve l'ho scritto questo è il last questo è il bid e questo è l'ask abbiamo inserito dopo andiamo a vedere anche come si fa sulla piattaforma un ordine di copertura quindi una chiusura di posizione anch'essa gtc quindi valida per più giorni di tipo trail che è trading stop come vedete non gli abbiamo dato un prezzo gli abbiamo dato una distanza che sono 5 punti questo 5.00 è la distanza dal nostro ordine principale quindi facendo una breve sottrazione attualmente la trailing stop sarà 5 punti sotto quindi a 1193 e 50 rispetto al nostro ordine d'ingresso andiamo a vedere qualche piccolo esempio pratico allora quest'ordine è molto simile a un ordine stop che abbiamo appena visto ha una peculiarità importantissima mi sentite? mi sentite? mi sentite? ora mi sentite? oh ok cosa vi siete persi? fino a qua mi sentivate ancora giusto? che la distanza era 1193 50 ok perfetto 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 quindi neanche farlo apposta con la slide successiva poco male anzi vi siete presi 10 secondi di pausa allora vi dicevo che quest'ordine è molto simile a un ordine stop che caratteristica ha? una volta che noi impostiamo una distanza dal nostro ordine d'ingresso se il mercato va dalla nostra parte cosa succede? la trailing stop si muoverà limitando la nostra perdita tant'è che per definizione trailing non significa bolt ma significa che insegue come vi ho messo nell'immagine andiamo a vedere qualche esempio grafico che è il metodo migliore per andare a ad apprendere questa tipologia di ordine bellissima tra l'altro aggiungo piccolo parere personale allora noi abbiamo il nostro ordine d'ingresso long quindi con la speranza che saiga impostato a 5 abbiamo inserito una trailing stop attaccata ovviamente quindi in relazione alla nostra entrata e gli abbiamo dato una distanza di 2 punti tant'è che 5 meno 2 sia posizionata a 3 ok tenetevi a mente il grafico che ho appena fatto vedere allora come abbiamo appena visto nelle slide precedenti quando siamo long a mercato possiamo incorrere in 3 casistiche riprendiamo un attimo quello da parte un attimino noiosetta che ho annunciato a inizio webinar se noi siamo long ci sono 3 situazioni a cui possiamo incorrere o il prezzo sale e siamo in profitto o il prezzo scende e siamo in perdita o il prezzo rimane invariato e non accusiamo nessun profitto e nessuna perdita ora andiamo a vedere in relazione a queste 3 situazioni la trailing stop come si comporta ok scenario numero 1 il prezzo del sottostante sale quindi sale va dalla nostra parte teniamo sempre il riferimento long per ora noi vogliamo sempre acquistare allora noi avevamo inserito un ordine di acquisto a 5 e gli abbiamo attaccato una trailing stop a 2 punti di distanza quindi a 3 ok lo spiego proprio passo a passo questo grafico ok vi ricordate ingresso long a 5 e distanza di 2 punti io sono già a mercato e sono già long a 5 ok esempio da 5 il titolo va a 8 quindi va dalla mia parte io ho comprato a 5 il prezzo continua a salire io sono l'uomo più felice di questo mondo a differenza di una stop loss che sta ferma qua a 3 cosa succede alla trailing stop si muove di conseguenza fino a mantenere la distanza che gli abbiamo assegnato quindi sta sempre 2 punti sotto in riferimento all'ultimo prezzo questo è come primo scenario quindi aspettiamo un attimo con le domande ma se dopo scende eccetera facciamo un esempio per volta dopo andiamo a vedere ovviamente tutte le casistiche quindi detto in soldoni diciamo se io entro long a 5 e il titolo inizia a salire e va a 10 io gli ho impostato una trailing stop di 2 punti di distanza se va a 10 la trailing stop va a 8 se va a 15 la trailing stop va a 13 sta sempre alla distanza che gli ho assegnato e la va a mantenere a differenza di una stop loss che dovrei essere davanti al computer con la mia tastierina e il mio mouse a cancellare il prezzo di 3 e andare a riaggiornarlo e mettergli 6 5 i prezzi che volete la trailing stop lo fa già in automatico segue l'ordine principale prima che entri e dopo segue l'andamento del sottostante infatti ipotizzando l'ingresso long a 5 trailing stop a 3 quindi sono 2 punti 2 mamma mia aspetta che ho fatto un 2 che sembra un mannaggia ok sto facendo anche un po' di pratica con l'evidenziatore vediamo se questo qua viene meglio si dai 2 punti di distanza se il prezzo inizia a salire per esempio va a 8 la trailing stop si alza mantenendo la stessa distanza tutto che è il primo scenario e speriamo che succeda per davvero in questo scenario noi compriamo il prezzo sale e la trailing stop ci segue ok datemi pure un feedback ok ok perfetto scenario numero 2 il prezzo del sottostante scende noi siamo sempre long mi raccomando allora noi abbiamo acquistato a 5 e abbiamo inserito una trailing stop con 2 punti di distanza cosa succede se il prezzo ci va contro quindi inizia a scendere in questo caso la trailing stop non è che scende di conseguenza perché altrimenti saremmo a mercato all'infinito quindi se è una cosa molto molto importante la trailing stop e tra parentesi anche molto utile se il prezzo ci va contro quindi in questo caso inizia a scendere la trailing stop non si muove quindi la distanza che avete inserito è il massimo che potete perdere tant'è che appunto rimane ferma perché il titolo sta andando in senso opposto rispetto alla nostra entrata vale anche per la vendita questa cosa sto facendo gli esempi con l'acquisto ma è tutto ripetibile anche con la vendita ok scenario 2 ok 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 perfetto perfetto ok terzo scenario che non ci fa né caldo né freddo tant'è che il terzo scenario riguarda se il prezzo del sottostante rimane invariato noi acquistiamo noi siamo a mercato long a 5 abbiamo impostato una trailing stop due punti sotto in questo caso va a 3 5 meno 2 fa 3 la chiudiamo sempre a 5 la trailing stop non si entra neanche in gioco e rimane ferma dato che il titolo si è addormentato come di solito lo dico io si è addormentato e in questo caso o andiamo a chiuderla manualmente oppure rimaniamo ancora a mercato con la nostra entrata a 5 e una trailing stop impostata due punti sotto signore la parte didattica l'ho finita mi sono ho finito di fare il professore mi sto anche un po' annoiando se ci sono delle domande ben venga altrimenti direi che possiamo andare sulla piattaforma il movimento è dinamico fisso no è dinamico Oreste altrimenti sarebbe una stop loss è dinamico perché tende sempre a seguire il trend la si può inserire in qualsiasi momento assolutamente si Matteo andiamo anche a fare qualche pratica se non ci sono altre domande è molto bella trailing stop se proprio devo se non avete ancora capito si 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 adesso arrivo Zorzo prima se non ci sono altre domande andiamo in piattaforma voglio un ultimo feedback di ora o mai più di domande relative a questi ordini così dopo possiamo andare perfetto sono rotto le scatole di far teoria andiamo sulla piattaforma a fare i soldi allora datemi un istante che vediamo se mi funziona il giochetto allora vediamo se allora qua con gli scarabocchi li lasciamo stare voilà vedete la piattaforma ok 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 perfetto allora giusto una piccola preview poi passiamo alle domande relative a questi ordini chiaramente da un punto di vista operativo non più didattico andiamo a vedere gli ordini bracket gli ordini appartenenti a un gruppo oca gli ordini condizionali e poi basta perché penso di non avere più fiato dopo tutte queste cose allora andiamo a vedere brevissimamente in due minuti netti come si inserisce un ordine da piattaforma ci sono tantissimi modi prendete quello che vi è più comodo allora uno di questi è cliccare col sinistro del mouse in corrispondenza di bid se si vuole vendere o ask se si vuole comprare chiaramente in riferimento allo strumento che effettivamente volete comprare oppure vendere facciamo un esempio io voglio comprare l'oro clicco col sinistro del mouse nella sezione ask e qua in basso apparirà un ordine una riga scusate di configurazione del nostro ordine che è il punto successivo che affronteremo se voglio vendere clicco col sinistro in riferimento alla colonna bid e apparirà questa volta una vendita con tutte le configurazioni che posso effettuare altrimenti se fate fatica a trovare il bid ask all'interno di tutti questi numeri cosa si può fare si taglia la testa al toro clicchiamo col destro del mouse sullo strumento che vogliamo comprare o vendere cliccando col destro appariranno quei altri due bottoni uno di acquisto e uno di vendita quindi anche io utilizzo questo di metodo mi è anche molto più comodo così non devo spostarmi evito di fare delle stupidate seleziono col sinistro l'azione che voglio fare in questo caso facciamo una vendita e siamo sempre allo stesso punto quindi poco male concentriamoci ora su questa riga dell'ordine allora cosa vediamo vediamo in primis poi a seconda dell'ordine con il quale avete posizionato le varie voci non è relativamente importante le ho posizionate in questo modo poco cambia se l'avete in prima colonna oppure in ottava colonna la loro funzione la fanno comunque allora prima colonna abbiamo la nostra azione quindi acquisto o vendita in questo caso ho una vendita perché ho un sell seconda colonna ho presente il timing force che è il periodo di validità per modificarlo questa come tutte le altre voci basta un click col sinistro nella casella relativa e vado a selezionare quello che mi interessa per esempio tornando anche al discorso di prima voglio fare un'operatività intraday è inutile che io metta un periodo di validità valido fino a scadenza del contratto o valido per più giorni vado a inserire day se come vi dicevo prima e lo ripeto tutte le chiamate che mi arrivano mi sono spariti i bracket colpa del broker eccetera se si inseriscono queste posizioni per delle operazioni a lungo termine bisogna inserire gtc quindi clicco col sinistro nella sezione del timing force e prendo gtc buono fino a scadenza terza colonna ho inserito la tipologia tipologia di ordine tipologia di ordine anche qui clicco col sinistro sono presenti tutte queste tipologie di ordini allora alcune sono veramente complesse come il trailing limit il trailing lit ce ne sono di tutte e di più vi ricordo che la piattaforma è una piattaforma per istituzionali per l'operatività che il 99,9% di voi fa sono necessari limit market stop trailing volendo se vi piace utilizzarlo io personalmente lo utilizzo e in casi veramente eccezionali così mi riferisco allo 0,01% così torniamo alla totalità lo stop limit voi potete utilizzare volendo potete utilizzarli tutti gli ordini che fanno al caso vostro sono quelli che abbiamo affrontato oggi più lo stop limit perché come vedremo anche i bracket non sono nient'altro che un ordine limit e un ordine stop quindi siamo sempre all'interno dello stesso insieme a questo punto vado ad inserire l'ordine che mi interessa prendiamo per esempio un limit in vendita non mi ricordo limit in vendita dov'è che lo inserisco sopra o sotto l'ultimo prezzo battuto una vendita limit oh soddisfazioni tutti che mi dicono sopra il prezzo meno male quindi per andare a cambiare il prezzo come faccio clicco col sinistro del mouse vedete che un po' difficile da vedere però c'è c'è il cursore che sta lampeggiando io con la mia tastiera cancello il prezzo e ne metto uno come avete risposto correttamente sopra all'ultimo prezzo battuto adesso batte 1193.30 lo mettiamo a 1198 per esempio gli diamo l'invio da tastiera e perfetto abbiamo inserito il nostro prezzo a questo punto andiamo a modificare volendo la quantità dei contratti con il quale vogliamo entrare su questo strumento sempre per modificarla è semplicissimo ci clicchiamo all'interno col sinistro del mouse cancelliamo e inseriamo il numero di contratti che vogliamo utilizzare per entrare in questa posizione qualcuno utilizza un altro modo per inserire gli ordini lasciando stare grafico book trader option trader eccetera dico della piattaforma classica dall'interfaccia che stiamo tutti quanti vedendo o così o dal bdask esatto anche perché non ce ne sono gli altri modi quindi ce n'è uno molto più complesso ma andiamo a vederlo dopo con gli ordini condizionali quindi mi lascio la ciliegina più tardi allora allora cosa possiamo vedere ora andiamo a vedere gli ordini gli ordini bracket gli ordini bracket cosa sono sono due ordini di chiusura della nostra posizione e in particolare come si comportano uno dei due va a limitare la nostra perdita quindi nel caso noi andassimo long su uno strumento e il titolo inizia a scendere 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 anche nel giro di uno due settimane fino a una determinata soglia di prezzo ne dobbiamo dire stop a queste a questo trend in che modo gli andiamo inserire un ordine che permette di limitare la nostra perdita l'altra tipologia di ordine che compone come vi dicevo gli ordini bracket ci permette di andare a chiudere la posizione prendendo i profitti in particolare come si chiamano queste scusate che mi ha perso il see cleaner ok come si chiamano queste due ordini bracket la chiusura in profitto si chiama take profit la chiusura limitando le nostre perdite si chiama stop loss come si inseriscono allora inizialmente dobbiamo andare a inserire un ordine in base alla nostra analisi di uno strumento per esempio andiamo a inserire un acquisto prendiamolo a caso anzi andiamo sul forex prendiamo un acquisto mamma mia l'euro anche oggi qua sul dollaro contro lo yen quindi tasto destro clicchiamo su buy scrivimela pure Giorgio intanto la domanda ok noi abbiamo inserito la nostra il nostro ordine principale perché la nostra azione è quella ok io compro dollaro yen sperando che il prezzo salga questo è il nostro obiettivo principale a prescindere che noi inseriamo dei bracket non li mettiamo eccetera noi in base a un'analisi dobbiamo dire ok io lo compro sperando che salga tutto il resto viene di conseguenza una volta che abbiamo inserito e configurato per esempio la quantità la tipologia di ordine tutte queste voci essenziali per andare a prendere un prezzo sempre più migliore anche no non si dice sempre più migliore sempre migliore il più me lo mangio adesso sempre migliore dal dal mercato cosa facciamo inseriamo un ordine limit quindi un prezzo limit in acquisto lo andiamo a inserire dove ok andiamo a metterlo sotto all'ultimo prezzo battuto perfetto quindi qua batte 117.73 lo mettiamo a 115 tondo tondo cosa facciamo a questo punto per inserire gli ordini bracket bisogna andare a cliccare col destro del mouse io per comodità clicco in prossimità di questo riquadro vuoto appena sotto al contratto dove voglio entrare in posizione quindi alla sinistra della mia azione principale clicco col destro apparirà questa finestra dove devo andare devo andare su attach o per chi ha la piattaforma in italiano su allega e prendere la voce bracket orders ci clicco col sinistro ok qua togliamo un attimo ok mi appariranno questi due ordini come vi dicevo gli ordini bracket sono due ordini di chiusura per questo motivo sono due vendite la mia azione principale è quella di comprare e sperare ovviamente che il prezzo continui a salire cosa fanno questi due bracket mi vendono se il titolo raggiunge una soglia che per me va bene tanto da dire ok mi porto a casa i profitti e me ne vado oppure mi vanno a limitare la perdita qualora il titolo continuasse a scendere come vedete anche gli ordini bracket hanno la stessa quantità del mio ordine principale qua sono impostati 50k come quantità predefinita anche i due bracket hanno la stessa quantità se dovessi cambiare la quantità dell'ordine di ingresso per esempio dovessi metterne 100 dall'invio vedete anche la quantità dei due bracket viene modificata perché sono due ordini di chiusura ok ok questo ok allora andiamo a vedere un attimo nello specifico anche da grafico come si come si leggono questi bracket allora ok siamo un pochettino in basso vabbè poco male allora facciamo procediamo per assurdo aspetta che tolgo il reticolo che da noia allora io voglio entrare long su questo titolo a limit quindi cosa gli dico state che spostiamo il più possibile ok cosa gli dico ok devo sperare che scenda prenda il mio ordine d'ingresso e successivamente inizia a salire questo è quanto abbiamo visto prima con l'ordine limit ok lasciatevi stare un attimo questi due ordini a rosso ok inoltre cosa gli diciamo dato che se noi dovessimo entrare a mercato solo in questa maniera con il nostro acquisto limit siamo esposti ad un rischio che è potenzialmente infinito sia dal punto di vista dei profitti che delle perdite perché una volta che siamo entrati a mercato cosa può succedere o il titolo potrebbe crollare rovinosamente e ci bruciamo il conto allora poi arrivano le classiche chiamate da disperate colpa del broker eccetera oppure speriamo che non succeda ovviamente il titolo tocca e potrebbe salire fino all'infinito e noi siamo le persone più felici del mondo perché c'è andata di culo questa cosa non è il modo corretto per gestire il proprio denaro assolutamente ogni qualvolta voi decidiate di entrare a mercato almeno una protezione per le vostre posizioni nel caso non dovesse andare nella direzione auspicata dovete metterla il profitto volendo si può anche togliere si può chiudere manualmente ma per quanto riguarda il limitare prima di entrare a mercato le proprie perdite quello è un must bisogna assolutamente farlo ora procediamo in questo modo facciamo finta che il dollaro controllo iene è sceso ci ha preso il nostro ordine d'ingresso in acquisto cosa succede quest'ordine verrà cancellato dove sono io ora col mouse e entreranno in gioco i due bracket secondo che tolgo queste due ok ci sarà una vendita limit a questo prezzo e una vendita stop a questo prezzo perché se provate a ragionare facendo finta che l'ultimo prezzo battuto è in prossimità di questa soglia qual è l'unico ordine in vendita che si può inserire sopra all'ultimo prezzo battuto l'unico ordine in vendita sopra l'ultimo prezzo è un ordine limit giusto esattamente e così continuiamo con la domanda una volta che sempre facendo finta che il nostro ultimo prezzo battuto è in prossimità del nostro ingresso qual è l'unico ordine in vendita che mi permette di essere trasmesso al di sotto dell'ultimo prezzo battuto esatto l'ordine stop esattamente per questo motivo gli ordini bracket sono un ordine limit per la take profit stop per la stop loss sempre cosa succede in questa situazione mi entra il nostro acquisto limit ci saranno questi due ordini se il titolo inizia a salire e ci tocca il nostro limit noi usciamo abbiamo nella profit loss realizzata un bel numero in verde che sono i nostri profitti e se non usciamo dal mercato appunto con la take profit presa di conseguenza cosa succede che è una caratteristica fondamentale dei bracket la stop loss viene automaticamente cancellata nel momento in cui l'ordine limite è stato eseguito quindi in sintesi quando uno dei due bracket viene preso dal mercato l'altro si cancella automaticamente evitando di farci stare a mercato in posizioni che assolutamente non ci interessa nulla anzi in posizioni dove per paradosso volevamo uscirne quindi gli ordini bracket sono importantissimi ci sono domande sui bracket chiaramente vale anche con la vendita se la nostra azione principale è una vendita ci saranno due acquisti e lì ci sarà il discorso opposto qual è l'unico ordine in acquisto che mi permette di inserirlo sotto l'ultimo prezzo battuto il limit qual è l'unico ordine in acquisto che mi permette di inserirlo sopra all'ultimo prezzo battuto la stop allora Matteo domanda interessantissima e super importante puoi inserire gli ordini bracket quando hai già una posizione a mercato risposta no non rimanete inzimale non è possibile però cosa si può fare si può inserire una coppia di ordini che hanno le stesse identiche caratteristiche dei bracket che è il gruppo OCA così rispondo anche a Riccardo allora rispondo velocissimamente a Claudio poi andiamo a vedere il gruppo OCA che è una cosa annessa tra l'altro Claudio ci dice se invece faccio un buy stop come ordine principale il take profit lo metto sell limit e la stop loss sell stop esatto i bracket sono sempre per il take profit un ordine limit mentre un ordine per la stop loss un ordine stop niente figurati allora dopo arrivo esorzo solo che mi ci vorrà 3 o 4 minuti per leggere la domanda arrivo appena ho un secondo guardiamo il gruppo OCA poi la l'affronto la tua domanda allora gruppo OCA gruppo OCA allora gruppo OCA che cos'è? è un gruppo di ordini dove una volta assegnatogli lo stesso nome al gruppo si comportano nel seguente modo una volta che uno di questi ordini viene eseguito e trasmesso dal mercato tutti gli altri ordini che appartengono allo stesso gruppo vengono automaticamente cancellati se ci pensate è la soluzione ideale per andare a inserire gli ordini bracket o meglio un facsimile degli ordini bracket in posizioni già a mercato perché io posso inserire una ordine limit assegnargli un nome rispetto a un gruppo OCA inserire un ordine stop dargli lo stesso nome trasmetterlo in modo tale che se mi prende uno dei due l'altro si cancella automaticamente ma andiamo a vederlo con un esempio altrimenti non è molto chiaro noi entriamo a mercato teniamo sempre il il dollaro yen che è qua bel comodo ok qua c'è l'impatto margine trasmettiamo perfetto noi ora siamo long quindi se noi volessimo inserire dei bracket che azione dovremmo fare inserire un acquisto o una vendita in questa posizione esatto una vendita allora quindi procediamo in questo modo andiamo su sell o cliccando col sinistro rispetto alla alla colonna bid oppure dal contratto clicchiamo col destro e prendiamo sell oppure close come volete tanto non lo chiude istantaneamente anzi prendiamo close ok cosa ci appare ci appare un ordine in vendita la quantità è la stessa quindi siamo contenti gtc quindi non abbiamo più problemi per la scadenza di questo contratto può prendercelo anche tra due settimane noi ce l'abbiamo già in macchina e abbiamo inserito di default una tipologia limit non è un problema anzi iniziamo a configurare la nostra soglia di profitti a limite allora dato che noi siamo entrati a mercato a 117.77 il sell limit dovrò inserirlo dove sopra o sotto è la nostra presa di profitti ok allora se io compro spero che il prezzo salga quindi sono disposto a rivenderlo ad un prezzo superiore quindi vado giustamente ad inserirlo sopra all'ultimo scusate al mio prezzo di entrata sì Matteo suggerisce un 120 va bene lo prendiamo buono clicchiamo nella colonna del prezzo cancelliamo queste cose 1 2 0 invio ok a questo punto prima di trasmetterlo andiamo nella colonna oca group se non dovesse esserci così anticipo già quelle 7-8 domande e non ho la colonna del gruppo oca vi faccio vedere come si inserisce la tolgo anch'io ok per inserirla attenzione tra l'altro lo spiego ad ogni webinar come si inserisce come si fa andiamo sulla voce su una delle voci presenti in basso di questo layout in basso significa o cancel o transmit o status o tutte queste voci in basso perché questo perché sono le informazioni relative all'ordine quelle in alto last change bid size ask size eccetera sono le informazioni relative al contratto o se siamo già a mercato quindi importantissimo col cursore avvicinarsi a una delle voci in basso per esempio vado vicino a transmit sto lì fermo qualche secondo mi appariranno queste due voci inserisci colonna oppure togli la togli la come si dice questa questa voce per non sbagliare si può in alternativa far così andiamo dove c'è transmit lasciamo perdere quello che ci appare in alto clicchiamo col destro e prendiamo la seconda voce inserisci colonna prima della colonna trasmetti il percorso per raggiungere il gruppo oca è attributi dell'ordine gruppo oca sto qua 5 secondi di numero intanto bevo un goccio d'acqua ok e vedete che cliccando su gruppo oca ci ha aggiunto prima della colonna trasmetti come ci ha suggerito la piattaforma il gruppo oca a questo punto cosa devo fare devo inserire un nome al gruppo cliccando col sinistro vedete che da nero diventa bianco con un cursore e gli posso scrivere qualsiasi cosa non scrivetegli una poesia come nome al gruppo altrimenti non ve la cavate più tenete un formato anche abbastanza semplice per esempio chiamiamo assistenza brokers gli diamo l'invio e vedete che questa tipologia di ordine appartiene a un gruppo chiamato dal sottoscritto assistenza brokers cosa facciamo ora aspettiamo trasmettere andiamo a creare la stop loss perché ora abbiamo creato il limit che è la nostra presa di profitti ora andiamo a creare la stop loss quindi andiamo ancora su vendita dato che è un ordine di chiusura l'ordine nuovo diciamo in vendita è quello senza il nome al gruppo quindi andiamo su il primo che ci appare gli modifichiamo la tipologia perché non è un limit ma un ordine stop ordine in vendita stop dov'è che vado ad inserirlo che non mi ricordo più esatto vado ad inserirlo sotto all'ultimo prezzo battuto o in questo caso sotto al mio prezzo d'ingresso mi date anche un valore ok ci sono 215 su 2 quindi lo tengo buono 115 a questo punto prima di trasmetterlo cosa mi manca dovrò dargli un nome a quest'ordine e che nome gli darò gli do esattamente lo stesso nome dell'altro dell'ordine che ho appena creato quindi lo chiamo assistenza spazio brokers ok come vedete hanno entrambi lo stesso nome del gruppo a questo punto trasmetto 1 trasmetto 2 e ho creato il mio gruppo OCA difficile? diciamo di no ok comunque non preoccupatevi c'è sempre la registrazione ne faccio ancora uno rapidissimo per quanto riguarda magari una vendita come azione principale però non posso soffermarmi ancora un quarto d'ora perché altrimenti non do spazio alle domande prendete sempre buona la registrazione che vi verrà ovviamente fornita allora prendiamo un altro sottostante sterlina dollaro noi andiamo in short quindi tasto destro sell e lo trasmettiamo adesso proprio dico tutti i passaggi ma non mi posso soffermare più di tanto allora noi siamo in short quindi dobbiamo inserire due chiusure un acquisto limit per andare a prendere i nostri profitti su questo titolo e un acquisto stop per andare a limitare le perdite qualora il titolo dovesse sparare in alto quindi clicco su il contratto tasto destro close limit va bene dato che ho un buy limit lo inserisco ad un prezzo inferiore rispetto alla mia entrata quindi sono entrato a 56.50 lo mettiamo a 55 gli do un nome al gruppo lo chiamo trading club ora faccio la stessa identica cosa tasto destro close no non gli piace clicco su buy vado su stop io faccio diventare una stop loss allora un buy stop rispetto alla mia entrata la devo inserire sempre sopra all'ultimo prezzo quindi 56.50 a un prezzo maggiore la mettiamo per esempio a 1 e 57.50 do lo stesso identico nome a a a a questo ordine trasmetto e trasmetto cosa succede? se uno dei due ordini dovesse entrare a mercato l'altro viene automaticamente cancellato come se fosse un un ordine bracket la colonia in italiano si chiama esattamente gruppo OCA e lo trovi in attributi dell'ordine quarta ultima voce sul grafico resta non cambia niente nel senso si vede così sul grafico come se sono due bracket guarda questa è la nostra presa di profitti e questa è la nostra stop loss come se fossero due bracket proprio allora allora Giorgio è arrivato il tuo turno mi tocca leggere il domandone il venerdì alle 18.35 no sto scherzando ci mancherebbe allora in un momento di trading range del sottostante quindi di incertezza su dove uscirà il prezzo ok posso inserire due ordini uno long e uno short ai limiti del canale dove si sarà formato ok li allego anche ai rispettivi bracket perfetto quando il prezzo si muoverà e mi eseguirà da una delle due parti come faccio a togliere l'altro con i bracket in modo automatico la risposta è quanto abbiamo appena detto col gruppo OCA col gruppo OCA nel senso esatto si infatti devo rispiegartelo dimmi di no per favore l'ho già fatto vedere cinque volte come si fa il gruppo OCA l'unica cosa quando inserisci per esempio facciamo finta che l'australiano canadese siano in quel famoso range eccetera io vuoi inserire un acquisto fai tasto destro allega o attach ordini bracket gli dai un nome al tuo ordine principale lo chiami per esempio 6 dicembre Bologna gli metti il tuo prezzo per esempio diciamo che il canale è 96,98 lo metti a 96 a questo punto vai su sell tasto destro aggiungi ordini bracket vai su il gruppo O che lo chiami 6 dicembre Bologna gli modifichi il prezzo avevo detto 98 in modo tale che se ti prende uno dei due ordini uno dei due ordini appartenente allo stesso gruppo quindi il tuo ipotetico acquisto e la tua ipotetica perdita appena uno dei due lo prende gli altri tre se ne vanno a far benedire perché è come se fosse un sotto insieme i bracket che ha attaccati c'è un macro insieme con il tuo acquisto e una vendita che poi tu gli hai attaccato degli altri bracket e non gli interessa la piattaforma dato che i due bracket dipendono rettamente dal tuo ordine principale non sono in gioco ok perfetto riccardo riccardo i buy stop buy limit oppure se le stop se il limit dei bracket funziona nello stesso modo se li considero singoli ti dirò di più gli ordini bracket che voi vi interessa o no fanno parte di un gruppo ok vedete che hanno lo stesso numero è un codice che genera la piattaforma tant'è che effettivamente quando uno dei due entra l'altro si cancella automaticamente gli ordini bracket sono un gruppo oca ci fate caso che c'è questo codice che è identico ok perché è identico perché ogni qualvolta la take profit viene presa la stop loss si cancella automaticamente e viceversa per definizione one cancel other esatto sarebbe one cancel all è Andrea che fa il cazzone e dice one cancel other perché giusto serve one cancel all glielo dico tutte le volte è lui che fa il fenomeno quindi dopo gli tiro ancora le orecchie perché dopo vi mette in testa queste definizioni che non sono vere uno cancella tutto esatto quindi tenete buono one cancel all tant'è che se si dice uno cancella l'altro non è parzialmente vero perché io posso inserire anche 40 ordini appartenenti tutti allo stesso gruppo OCA lasciando stare la stupidata che sto per fare volendo io posso inserire una sfilza di ordini sia in acquisto che in vendita tutto quello che volete nella colonna del gruppo OCA gli posso dare lo stesso nome del gruppo nessuno mi vieta di andare a inserirne solo due io posso farlo anche con 30 ordini in un gruppo OCA attenzione a non esagerare perché dopo un po' se si tira la corda come potete capire si spezza fatelo per ora con i bracket e fatevi qualche prova in simulata comunque è utilissima la funzione del gruppo OCA non è neanche difficile da imparare basta automatizzarla 5-10 minuti in 2-3 giorni la si impara senza alcun problema oppure ascoltare la registrazione in corso ok altre domande tanto la voce del gruppo OCA basta cliccare col tasto destro in una voce in basso per esempio transmit status azione quantità dove volete col destro del mouse inserisci colonna prima di che è la seconda voce nella quinta ultima attributi dell'ordine è presente il gruppo OCA se non è presente qui basta ampliare la finestrella e c'è il gruppo OCA che non è detto che sia lì in evidenza Matteo altra super domanda allora se voglio memorizzare che ogni volta che faccio un'operazione mi inserisce sempre i bracket come faccio? questa volta la risposta è sì si può fare se no rispondo sempre no alle tue domande quindi si può fare si può fare bisogna andare a modificare le preimpostazioni dell'ordine faccio un po' di pulizia che altrimenti diventa una schifezza voilà allora le preimpostazioni dell'ordine cosa sono? sono tutte quelle impostazioni che effettuiamo quando clicchiamo col sinistro su acquisto vendi un particolare strumento come si fa ad andare nelle preimpostazioni ordine inseriamo un ordine qualsiasi su un qualsiasi strumento ma non trasmettetelo mi raccomando quindi per esempio andiamo qua andiamo su buy dollaro contro l'altro dollaro canadese nella riga dell'ordine clicchiamo col destro come per inserire i bracket giusto per intenderci ma andiamo in configura preimpostazioni ordine oppure per chi ce l'ha in inglese come me configure order presets clicchiamo col sinistro e ci apparirà questa finestra finestra dove a sinistra io posso andare a selezionare lo strumento che voglio configurare per esempio i cfd le opzioni le opzioni sui future i warrants i future e così via quindi importantissimo prima vado a selezionare lo strumento dopo vado a a configurare tutte le varie impostazioni che voglio fare su quello strumento andiamo sul forex per esempio allora gli abbiamo inserito un periodo di validità gtc di default si possono sempre cambiare questo è solo per prenderci più tempo per fare altro in modo tale che con un click abbiamo già tutto automatizzato però nulla vieta che si può andare a cambiare ci mancherebbe abbiamo un periodo di validità gtc la quantità abbiamo preimpostato 50k qua è possibile andare a modificare l'ordine d'ingresso principale che è la prima riga di tutte quante le voci che vi interessano più di tutto sono target order che è la nostra take profit questa qui la vedete e attached stop order questa qui per andare a inserire con un click già attaccato una take profit e una stop loss a una distanza da noi preimpostata appunto è molto semplice partiamo con la take profit andiamo su order type clicchiamo anziché nessuno prendiamo limit così facciamo anche due o tre passi indietro in quanto abbiamo appena accennato che la take profit è un ordine limit limit price assicuriamoci che sia selezionato ordine principale oppure parent order se l'avete come me in inglese perché parent order significa che la take profit sarà a una distanza da noi assegnata in riferimento in riferimento al nostro ordine di ingresso quindi non ci interessa se il titolo è 10 e avere una take profit in relazione a quanto sta facendo ora il titolo dobbiamo metterlo in relazione al nostro ordine di ingresso a questo punto possiamo andare a inserire in questa voce la distanza a distanza dal nostro ordine principale chiaramente si può mettere sia in punti che in percentuale che in tics dovete un attimo vedervela voi nel senso dipende dall'operatività che avete eccetera vi dovete con tutto l'amore del mondo smanettarsi un attimino voi fare anche qualche prova per quanto riguarda la stop loss stessa identica cosa solo che anziché order type none prendiamo stop parent order lo lasciamo perché vogliamo che faccia riferimento al nostro ordine di ingresso e la distanza assicuratevi unica eccezione che ci sia il segno meno segno meno non significa che vale solamente per l'acquisto anche con la vendita la metterà più in alto però è indispensabile che ci sia il segno meno altrimenti la va recalcolare in un modo errato e succedono dei pasticci a questo punto gli diamo apply selezioniamo tutto quanto possibile immaginabile e ok guardate il risultato se io clicco quel sinistro su acquisto vendi ho già preimpostato una take profit e una stop loss alle distanze che gli ho assegnato come vi dicevo nulla mi vieta di andare a cambiare tutti i valori cioè tutti tutti no però posso andare a configurare a tipologia di ordine periodo di validità e così via ok ok Matteo posto anche tutti gli altri bisogna fare qualche prova ovviamente però è una funzione che se vista un attimo senza troppo impegno non nuoce anzi vi potenzia vi ottimizza non poco se cambio il prezzo in automatico cambia anche quello degli altri proviamo mettiamo 98 no non se lo fila mettiamolo a 1 no niente non se lo fila Claudio Stefano ciao Stefano allora si può modificare il valore di uno degli ordini oco una volta trasmesso sì assolutamente sì 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 allora facciamo così qua entriamo un attimo a mercato possiamo fare l'esempio con gli ordini bracket che è la stessa identica cosa fa che ci prenda subito ok lo impongo io voilà allora siamo in una situazione di questo tipo lasciando stare che abbiamo costruito questi due bracket con un gruppo oca però la situazione una volta trasmessi è praticamente identica se voglio cambiare il valore basta che clicco col sinistro all'interno della casella del prezzo cancello e inserisco il valore che mi interessa per esempio ho sbagliato inserito una take profit troppo vicina anziché a non mi ricordo quant'era la voglio mettere a 98 quindi clicco con 98 e gli do l'invio da tastiera clicco su aggiorna o update importantissimo e il valore è stato correttamente cambiato si può fare anche con la stop loss assolutamente magari l'ho messa troppo lontano la metto più più vicino e gli do l'update si 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 può fare assolutamente allora se volessi dividere Paolo l'ordine di take profit in due ordini con due livelli diversi c'era andare a creare un altro ordine singolo e andare a dimezzare i due contratti ma tutte queste cose vanno fatte prima di trasmettere l'ordine a mercato altrimenti ti incasini la vita e non poco stiamo andando sull'ingegneria di trading ci stiamo spostando in questo ramo non complicatevi la vita ho ancora a disposizione una domanda che dopo non ho più fiato ah si Paolo per emulare quello che fa Stefano lui lo fa in un modo particolare che è tramite il book trader e si può fare anche qui ma è molto più semplice dal book quello assolutamente e comunque anche su youtube sono presenti tantissimi video dell'operatività di Stefano di quando è a mercato come si fa a cambiare come si chiude mezza posizione stessa identica cosa o reste noi siamo long di 50k sul dollaro yen vado su vendi qua mi ha già attaccato i bracket perché non li ho tolti prima ok gli cambio la quantità e che metto mezza posizione 25 e gli cambio il prezzo lì chiudo mezza posizione non penso ci sia molto di complesso ok ragazzi mi sono giocato due polmoni a fare questo webinar allora direi che possiamo tutti trascorrere un bellissimo weekend allora prima di salutarvi a Bologna venite vero? 6 dicembre a Bologna ok Antonio viene Manuela lo so già che viene Ciro c'è anche Matteo vieni a trovarci Paolo certo come ci sei anche tu Yuri perché non mi volete scusami sarò qua a fare webinar come ci sei anche tu no no ci sono ci sono assolutamente ecco allora non vieni te perfetto esatto grazie grazie Antonio dopo ti regalerò un'ora di coaching Antonio che sei l'unico che mi capisce qua ok perfetto allora ragazzi auguro a tutti una buona serata mi raccomando partiamo più forti che mai lunedì trading club trading journal la registrazione la trovate per chi ha aderito al trading club nella umonima sezione del nostro forum penso lunedì la caricheremo altrimenti la si trova anche su youtube sul nostro canale per tutti i dettagli dell'evento del 6 dicembre nella sezione eventi appunto del nostro sito se mi date un istante eccola qua dal nostro sito assistenzabrokers.it c'è andare su eventi e cliccando qui per vedere il programma quindi non bisogna fare dei giri enormi è presente tutto il programma tra l'altro sono appena arrivate giusto oggi delle piccole sorprese dei bonus che per chi partecipa gli saranno offerti durante la giornata che passeremo assieme quindi non vediamo l'ora che arrivi il il 6 dicembre così ci stringiamo la mano e ci beviamo anche un bicchiere di vino assieme signore e signori auguro a tutti una buona serata un buon weekend noi ci vediamo domani e domani scusate lunedì sono già morto a presto ciao ciao un abbraccio a tutti